Ciao ragazzi, bentornati a Yes I Can. Sono in compagnia di una vecchia amica, non una nuova amica, una vecchia amica, ma per me è una sfida perché lei segue i miei protocolli da tanto tempo. Allora Viviana, saluta i nostri amici. Ciao a tutti, sono Viviana, ho 44 anni quasi, sono sposata da circa 14 anni, ho due figlie di 10 e 13 anni, bellissime, fantastiche, lavoro, sono quindi anche una donna lavoratrice e quindi super impegnata. Ok, perfetto. Allora, andiamo per spiegare questa sfida perché conosco Viviana da tanto tempo e tu sei candidata qui a Yes I Can, nonostante che conosci i miei protocolli, perché? Mi sono candidata perché, allora, intanto già essere qui ovviamente per me è una mia sfida da superare perché sono fondamentalmente, anche se a volte lo maschero, una persona molto insicura e timida e riservata e quindi già essere qui con te, parlare diciamo di cose mie personali e davanti ovviamente a una telecamera e a un pubblico non è assolutamente facile. E appunto proprio perché voglio superare un pochino queste mie incertezze, queste mie paure, uscire un po' dalla mia zona di comfort, dove in genere cerco di rifugiarmi, per non incorrere in problemi, in delusioni, in inconvenienti perché diciamo che non sono abituata a non controllare tutto quanto, quindi diciamo che non è una situazione di comfort in cui posso controllare il durante il risultato. Fermati! Mi fermo. Allora amici, io ho chiesto a Viviana di venire qua e la devo anche raccontare the back story, la back story è Viviana. Che devo preparare? Che cosa devo portare? Perché io devo... è venuta da me e dimmi che se non è vero provi di controllare tutto. 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 Dieta? Al minuto. Allenamento? Tutto. Diciamo diario giornaliero? Eh sì. Come si spostano i figli? Sì. Ok. Ti lasci mai andare? Poco, raramente. E poi ti domandi? E perdo un po' la bussola, cioè quando succede insomma non mi ritrovo in me stessa, ecco, quindi mi destabilizzo. E che cosa succede quando perdiamo la bussola? Eh appunto succede che non mi ritrovo più nella mia zona di sicurezza, quindi mi destabilizzo e cerco comunque sempre un po' di rientrare nei miei ranghi, quindi nel controllo. Il mio negativo, il mio lato negativo è nel momento in cui poi non riesco e mi arrabbio. Invece dovrei a quel punto dire vabbè ci ho provato, amen, sarà per la prossima. E invece secondo me la parte negativa di me stessa non è quello di voler fare di più, è quello poi di come reagisco nel momento in cui non sento di aver raggiunto quello che volevo ottenere. Che cosa fai quando perdi la bussola e non sei più sotto controllo? Come mangi, come ti alleni e come ti punisci? Nel mio caso mi viene il panico, cioè perdere la bussola per me è entrare proprio in ansia e nel panico. Ok, adesso cominciamo a respirare. A me piace tantissimo questo percorso di Yes I Can, perché stiamo vivendo attraverso la vostra storia, secondo me tante facettature della donna, ok? Da subire la menopausa o piuttosto affrontare un intervento o trovarsi con un ex marito molto complicato. E adesso stiamo parlando con Viviana di un secondo me un processo al femminile molto comune. Permettimi di dirlo, è un'ossessione con il controllo. Perché lo facciamo? Lo facciamo perché se io sono in controllo, ok, non mi possono fare male. Sì certo, è una difesa. È una difesa, ok. E il motivo per la quale non ti ho detto, Viviana, che cosa avrei preparato per te è che a differenza delle altre amiche dove stanno partendo con, diciamo, con i miei prodotti, con i miei protocolli ex novo. Sì. Io con te devo fare il contrario. Dovrò fare il contrario. Io dovrò chiederti di fare una delle cose che per te sarà più spaventoso in assoluto, di non programmare più niente. Impossibile. Perché è impossibile? Eh, perché, cioè, comunque non riesco ad affrontare una giornata senza sapere come, eh, come condurla. Ecco. Quindi, così, all'impronta. Cioè, è difficilissimo. È una delle cose più difficili per me. Tu veramente mi hai contattato. Sì. In privato perché ci conosciamo, una beauty trainer, una ragazza che mi segue, ci conosciamo molto bene. Sì. Ok, hai detto, che cosa in questo momento non ti sta dando risultati? E poi ti spiego la risposta. Da punto di vista fisico o psichico? Metabolico. Da punto di vista metabolico sono in blocco metabolico da almeno un anno, un anno e mezzo, nonostante, come Gilles sa benissimo, eh, conduco una vita regolarissima, quindi disciplina dal punto di vista dell'allenamento, sport, integrazione e alimentazione sana. Ok. Vado a letto presto, digiuno intermittenza, tessuti attivi, eh, tutto ciò che potevo, che posso fare, insomma, lo faccio. Ho avuto, ovviamente, con te, grazie a te, ho avuto già degli ottimi risultati, perché all'inizio non ero così, né psicologicamente, né fisicamente, quindi ho avuto degli ottimi risultati, perché già, anche se non sembra, però, diciamo, il percorso l'ho già cominciato e sono già migliorata da tanti punti di vista, sono molto meno, prima, diciamo, ero una pessimista cronica, adesso vedo tutto con molta più positività. Mediamente pessimista cronica, allora, ritorniamo indietro, perché c'è sempre, percepisco, uno stato d'ansia, qui. Sì, infatti io ho difficoltà a respirare, cioè, sembro, vivo una vita un po' in apnea, ogni tanto mi fermo e dico, ma quando respiri… Ok, ritorniamo indietro, io devo… parlo a te, ma sto parlando a tutte le nostre amiche là fuori. Allora, provare di essere… cioè, il discorso è, ed è molto difficile, perché non ho in un integratore per questa, questa è oggi, questa è una puntata un po' più psicologica, ok? Un po' più psicologico. E qual è? È vero, la stile di vita è molto importante, però anche il livello di ansia che portiamo verso quella stile di vita incide sulla produzione di cortisolo. Cortisolo è il nostro ormone legato al stress e per quello che percepisco io, e secondo me percepisce il tuo corpo, è che sei sotto attacco. Non sta percependo un rilassamento florido di calma dove possiamo crescere, dove possiamo lasciare che il metabolismo va. Tu, con la voglia di controllare così ossessivamente ogni minuto della giornata… Anche nell'ottenere risultati, Gil, perché io vivo nel pormi obiettivi e cercare di ottenerli. Cerco sempre di, nella mia testa, diciamo, di non pormi obiettivi irraggiungibili, perché so già che lì è un fallimento. Quindi io dove vedo un fallimento non ci vado nemmeno, cioè non ci provo nemmeno. Però ecco, è sempre un mettermi alla prova con me stessa. Io per esempio ho sempre fatto tanto sport, ma mai a livello competitivo, perché a me non piace mettermi in competizione con gli altri. Per me è sempre un superarmi, quindi un mettermi alla prova. Allora no, invece ti stai, ti stai contraddicendo. Mi metto alla prova, mi piace superare me stessa, ma non posso perdere. Tu invece dovresti andare fuori e perdere, clamorosamente. Dovresti andare fuori e fare una gara dove sei la penultima persona a arrivare. Dovresti andare a tentare di, cioè, perché se io provo anche di, cioè, non è mettermi alla prova se non rischio di fallire. Non è una mettere alla prova. Vedi, io vorrei fare, riflettere a te, riflettere ai nostri amici, perché io vedo le persone che hanno paura del cibo. Io vedo le persone che, con la dieta, sono sempre a dieta, sono sempre a dieta, sono sempre a dieta. Dieta è il controllo, 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 controllo il cervello fisso, il cibo, il cervello è sempre sotto controllo. Invece lasciare andare con un sicuro e matematicamente, veramente una certezza matematica che probabilmente ingrasserai. Oh, cielo. Cioè, per un minuto che lascio le redini, e il minuto che non ho paura di un chilo o due chili, il corpo si rilassa, produce meno cortisolo, e il cortisolo è inversamente correlato alle nostre TSH, l'ormone che stimola la tiroide. E per questo, tu dovresti fare una cosa che 100% sai che perderai. Ti devi, allora, diamo un esempio, io mi metto la prova, ma non posso falire. Dammi una cosa che tu dici, io non faccio una competizione. Dammi una competizione che potresti non fare, che tu non dici, non ho mai fatto una competizione polistica. Brava, io ad esempio, tanto tempo che penso di scrivermi a una gara di corsa, e alla fine non lo faccio perché non mi sento mai abbastanza pronta, non mi sento mai abbastanza legata. Ok, perfetto. Prima compito, siamo pronti per il primo compito. Ti devi... Iscrivere. Iscrivere a Race for the Cure, fra due settimane, domenica, c'è 5 km, è anche molto difficile fare la race, perché c'è talmente che aminano, devi zigzagare. Vabbè, 5 km... Ma non è quella, c'è proprio, devi scrivere, devi fare delle cose che ti spingono fuori dalla zona di comfort e devi smettere di avere paura di falire. Ma neanche tu ti abbatti. No, ultimamente... E soltanto tu non ti perdoni il falimento. Ah, sì. Perché non dovresti essere perdonata? Non te lo saprei dire perché. Sono fatta così, pretendo sempre tantissimo da me stessa, sono tanto autocritica e credo sempre che c'è... che potrei fare di più. Allora, che cose potresti lasciare andare? Che cose potresti diciamo? Allora, io vorrei affrontare... Brava, vorrei affrontare la vita con più leggerezza, perché mi sento molto appesantita. Sono io stessa che mi appesantisco e quindi vorrei lasciarmi scivolare le cose un po' di più, prendere tutto con più leggerezza e divertirmi di più, ridere di più e divertirmi. Prendere le cose come vengono. Ed è, ripeto, è un percorso che sto già affrontando e già... Tu dici, ah, però sei così controllata, ma non sai come ero prima. Cioè, adesso, da quando ti conosco e comunque, appunto, seguo tutti i tuoi protocolli e tutti i tuoi webinar, soprattutto che psicologicamente mi aiutano tantissimo, la meditazione anche, e sono migliorata tanto, perché prima non ero così. Cioè, non sarei mai venuta qua, insomma, due anni fa, se tu mi avessi detto partecipare a Yes Again, manco morta. Allora, mi devi dare due secondi, perché ci devo riflettere. È un caso di Yes I Can molto, molto impegnativo. E datemi un paio di minuti e poi discuteremo insieme il percorso che ho rifissato per Viviana. Allora, per Viviana ho un percorso un po' intermisto, che sarà un po' psicofisico, però partiamo con il fisico. Allora, magnesio, coeloidale. Magnesio ci aiuta a calmare il sistema nervoso, ok? E siccome sei molto sotto ansia, molto sotto stress, e sei sempre carica, il magnesio può aiutarti quasi all'immediato a ridurre lo stress, ok? Perfetto. Altra cosa, diciamo, legato alla stress ansio zen, queste sono fitoterapici che ci aiutano a ridurre lo stato ansioso del corpo, che è quello che dobbiamo fare per te e convincere il tuo corpo che non è sotto attacco, che non siamo, no, sempre lottare e fuggire, lottare e fuggire, lottare e fuggire, ok? Dopodiché, Goji Berry. Goji Berry è un antiossedante, ma un antiossedante che aiuta anche, grazie alla beta carotene, a ridurre la pH acido nel corpo, che è sempre un, diciamo, un marker di infiammazione nel corpo, e ci aiuta anche a calmare il sistema parasimpatico, un'altra cosa che calma questa ansia, perché fisiologicamente c'è, ok? Così proviamo dal punto di vista fisiologico, ridurre l'infiammazione, e poi psicologico, in seconda battuta, e poi McBerry. Questo è un antiossedante considerato al momento più potente della pianeta, un singolo capsula di mia McBerry equivalgono le polifenoli in 500 bicchieri di vino rosso, così ovviamente riduce il processo di invecchiamento cellulare nel corpo, mettiamo tutto, e questo è il lato fisiologico, psicologico, ok? Che cosa dobbiamo fare? Allora, digiuno intermittenza, ti chiedo di farlo 5 giorni a settimana, 6 giorni a settimana, e un giorno non farlo affatto. Lasciamo un giorno libero, un giorno libero proprio, se non sei abituato a fare la prima colazione lo fai. Salto la cena io in genere. Salto la cena, le fai la cena, ok? Per la felicità del mio marito, non mi vedo mai cenare con loro. Anche questo, ricordiamo... Sì, però ho provato entrambe, diciamo, le soluzioni, mi trovo meglio così, perché mi piace più fare la prima colazione, perché comunque cenavo molto presto, non con loro, quindi a questo punto... La fai così, ok? L'altra cosa è disegnarti a una gara. Di qualsiasi identità, mi puoi dire due chilometri, cinque chilometri, amichevole, non amichevole, però disegnarti a una gara. Va bene. Ok? E voglio fare un'altra domanda. Quanti controlli la vita di coloro che sono intorno a te? Figli? Uh, tantissimo. Io sono una militaressa a casa, e quindi ogni tanto pure le mie figlie, mamma, basta, molla. Ok, allora, non rompere le scatole figlie. Oh, mamma mia. Per un mese, per un mese. Cominciano a mangiare schifezze tutto il giorno, a non voler fare i compiti. Ok, non fare i compiti? No, perché sono una super studiosa. Però, quanti anni hanno? La grande è quasi 13, la piccola è quasi 10. Ok, perfetto. Secondo me hanno un'età che è abbastanza, diciamo, autonoma. E per un mese, non gli dire niente, un mese, sono 30 giorni, sopravviveranno, e posso garantire che non andranno per la cattiva strada in 30 giorni. ma per te, un esercizio di stile, per te. Perché tu comunque controlli la tua vita, ma proviamo di smettere di controllare qualcosa intorno a noi, perché finché tu provi di controllo, di controllare, il tuo cortisolo non scenderà e sai sempre lottare e sfuggire. Scegli le battaglie da combattere e lascia l'altra andare. E vediamo che succede fra un mese. Ci provo, lo faccio. Yes I can? Yes I can. A Viviana dico, hai ottenuto i tuoi successi, perché hai una bellissima famiglia, un'ottima posizione lavorativa, ti permette di stare tranquilla. e sono molto determinata, se mi metto in testa una cosa, alla fine tra mille insidie, bene o male riesco, anche se appunto con questi punti di domanda che ci sono intorno, basta tre, di te. Non hai pensato che sarebbe stata così difficile? Assolutamente no. Ah, hai voluto. Una delle cose più difficili che abbia mai fatto questa, devo dire la verità. Sono irrequieta sempre il mio, sono sempre carica a pallettoni, però in questo momento... E le pensi le cose tipo, poi parleremo anche del pensiero positivo, lo metterò nella tua scheda da mettere, va bene? E meditazione? È tutto. Mi calma. Sì, non abbastanza. Per me è altro che... Puoi dire yes I can? Yes I can! Boone! Grazie a tutti!